buongiorno a tutti amici di caravan lag allora questa è la seconda parte del punto del video che aveva fatto l'altra volta e si parlava della differenza principale tra due veicoli con la stessa piantina interna uno semi integrale e l'altro motorhome nel video prima che vi metto sia nelle scade sia nella parte finale del video si parlava dell'aica cosmo 912 in questo vediamo il like a cosmo 512 vedrete principalmente una differenza diciamo di vivibilità della zona cabina perché ovviamente motorhome avendo il letto nella parte della della diciamo della cabina è tutto un pochino un po più largo mentre invece semi integrale letto basculante lo troviamo sopra alla dinette che quindi scende e sale a seconda appunto delle esigenze la lunghezza del veicolo è la stessa sempre 7 metri 40 ovviamente largo 230 però a differenza del motorhome il semi integrale parte con una cabina più piccolina sui 2 metri 05 per poi allargarsi al 2 metri 30 della larghezza del veicolo cosa che invece motorhome come dicevo è tutto largo uguale ovviamente come dicevo cambia anche il prezzo perché mentre sul motorhome la fascia di prezzo siamo dai 60 65 66 fino al 75 dipende sempre da accessori pacchetti tutto al tutt'altro in questi casi invece andiamo dai 58 ai 60 60 58 fino ai 66 perché più o meno da un semi integrale un motorhome della stessa fascia balla all'incirca sui 9 mila 10 mila euro dovuti appunto alla anche la difficoltà della della costruzione ma anche al fatto che ovviamente il motorhome la parte della cabina è più coibentata mentre invece nelle semi integrale no perché una cabina principalmente ducato le fanno le proprie coibentazioni tutto il resto però ovviamente rispetto al pezzo unico del motorhome la differenza purtroppo c'è in questo caso il veicolo montato quello che abbiamo in pronta consegna è montato sempre sull'euro 6 di tempo come appunto il motorhome però in 140 cavalli non è 160 cavalli un motore un pochino un po più piccino ma è sempre 2013 cilindrata in ogni caso vi invito come al solito di andare sul nostro sito www.caravanlang.it a vedere anche qui tutti i dettagli anche le foto e tutti i dettagli di sia di questo veicolo come anche di altri anche del motorhome vi lascio anche sempre contatto whatsapp anche qui per se avete bisogno di dubbi avete dubbi perplessità avete bisogno di qualche informazione potete scriverci anche lì siamo chiusi ma il contatto è sempre sempre attivo sperando di poter aprire presto sempre comunque vediamo insieme e così aspetto nei commenti anche se mi dite cosa preferite avendo visto due video vediamo anche insieme differenze mi dite anche se cosa preferite se motorhome se integrale tutto il resto vediamo insieme come per l'altro partiamo dalla bellissima zona giorno classica dinette face to face qui la troviamo con la tappezzeria non di serie quindi è la serie con il quad di serie tutta chiara come quella del motorhome in questo caso invece è una tappezzeria diversa con questo contrasto chiaro e scuro molto bello ed elegante avanti ci sono gli oscuranti più settati che sono compresi nel nel con pacchetto comfort cosmo dove troviamo anche il cruise control il clima cabina lsp traction plus quindi tutta una serie di option all abbastanza necessari come vedete a differenza del motorhome sta appunto qui davanti dove ci sono i due montanti della cabina questo e questo qua cosa che invece nel motorhome non c'è perché sotto e tutto diciamo libero tutto spazio utilizzabile in ogni caso anche su questo veicolo anche se semi integrale tutto il resto il lo spazio in diretto non vi manca perché comunque guardate che bello con quanto spazio i mobiletti ovviamente sono più piccini perché sono attaccate al letto basculante quindi scendono insieme al letto quindi anche qui bisogna anche fare un po attenzione a non caricarli in modo esagerato per il letto basculante vediamo subito insieme come si abbassa anche in questo caso è molto semplice perché abbiamo i pulsantini sotto la cucina ecco qui lo vediamo più basso possibile la zona giorno diciamo che non è proprio vivibile perché sono scese anche gli armadietti però volendo posso comunque uscire perché un po di spazietto ce l'ho ovvio io sono alto metro e sessanta quindi ci posso tranquillamente una persona più alta fa sicuramente più fatica vediamo comunque il letto basculante un bel letto basculante non ci sono le doghe ma ci sono le reti di sicurezza materassi sono dei materassi di alta qualità sono i materassi che utilizzano laica in generale su tutti i veicoli e quindi dei bellissimi materassi anche la cucina una bella cucina come dicevo via di mezzo tra una lineare e una cucina a l con tre fuochi ben separati il lavandino con bel lavandino bello profondo non è tanto largo ma è bello profondo para spruzzi che non patisce per evitare che si sporchi e si rovine la cucina e poi la finestra e gli armadietti vedete la differenza qua c'è un armadietto classico mentre quella un armadietto del letto basculante che quindi è più piccolino devo fare più attenzione a caricare non caricare cose troppo pesanti però è sempre spazio di stivaggio sono tutti mobiletti che posso utilizzare sia di qua e sia uno un pochino un po più grande sulla destra tornando alla cucina come anche per l'altro è pieno di mobili mobiletti quindi comunque lo stivaggio non vi manca sono tre cassettini belli ampi di cui uno per le posate sulla parte invece sulla parte a sinistra troviamo il frigo frigo da quello della 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 test for da 140 litri è un frigo adesso qua ma anche solo perché in esposizione mancano per ovviamente i cassettini ci sono è un frigo un pochino a torretta perché è più stretto ma più alto infatti alla sua celletta frizze un frigo ovviamente automatico che quindi è trivalente che quindi va a gas 12 volt 220 ed è non si vede benissimo però appunto è stretto e alto ecco il letto posteriore a penisola anche qui un letto bello ampio non è tagliato tantissimo con i due armadi laterali 112 gli armadietti sopra la testiera come anche nell'altro caso trovate le presine usb dalle lucine che è una cosa secondo me molto ma molto comoda soprattutto viaggiando perché posso caricare il telefono senza l'utilizzo di diverse presa usb e già lì pronta all'uso lo spazio di passaggio dal letto è presso che uguale forse nel motorhome è leggermente più più comodo passare ma davvero cambia veramente veramente poco e anche letto quale dimensioni sono belle generose passiamo al bagno come anche l'altro il veicolo al bagno con la doccia separata con il porta sapone la sbarra per gli accappatoi altro lo blu appunto anche qui a un bel bagno comunque una bella doccia c'è la possibilità chiudendo la porta del bagno anche qui di creare una bella zona una bella bagno perché infatti chiudendo quella e chiudendo la questa porta qua adesso c'è il tappeto e non riesco ma mi invito a vedere l'altro video per perché per vedere bene l'appunto come funziona comunque mi crea proprio una vera e propria zona bagno qui troviamo il vc tedford con la cassettina classica due mobiletti del bagno uno messo sotto al lavandino con le proprie prese e tutto questo è anche bello profondo e comodo anche per mettere il phon e tutto il resto poi attaccate modo diverso e poi un altro posto dal dallo specchio semplicemente aprendo uno specchio ne avete anche un altro qua quindi anche qui comunque già del bello del bello spazio anche nel bagno allora cosa ne pensate anche qui anche qui il veicolo è dotato di una stufa una truma combi a gas una combi 6.000 anche qui come nell'altro la struttura è dotata di un'ottima coibentazione pur essendo una serie diciamo l'entri leve della laica non è comunque un ecovip non è comunque un creos per questa discussione che c'è stata parecchie volte nel gruppo nel gruppo laica like official fan club dove se siete interessati al marchio tra parentesi vi invito anche a cercare su facebook però comunque per essere un veicolo fatto per essere posizionato nella fascia media del mercato quindi paragonarla a un tipo mcluis un roller team ci quindi una fascia media non una fascia alta come non è un ecovip un creos un cartago però su queste tipologie di veicoli su queste tipologie di prezzi è un ha comunque un ottimo rapporto qualità prezzo soprattutto parlando di coibentazione perché chi conosce già il marchio sa che laica tiene sempre un occhio di riguardo soprattutto per quanto riguarda la coibentazione sono dei veicoli che sono studiati per andare in montagna quindi sono stati testate quindi su quello appunto non avete problemi se cercato un veicolo per andare a fare le settimane bianche o comunque per viaggiare sia d'estate sia d'inverno potete tranquillamente andare anzi mi invito ad andare su un like il portellone garage ecco dimenticavo è un pochino un po più piccolo rispetto al motorhome perché qui siamo a 93 per 115 per un metro 15 quindi un metro 15 di altezza e 93 di larghezza e comunque perfetto anche per portare appunto scooter biciclette biciclette elettriche e tutto quello di cui necessitate è un veicolo omologato quattro posti letto e quattro posti viaggio quindi perfetto secondo me perfetto per la coppia magari la coppia con un figlio appunto famiglia da tre persone per quattro persone invece lo ritengo un pochino un po più scomodo per il fatto che letto basculante vi va sulla zona giorno quindi bisogna essere una famiglia che va principalmente perché appassionato di viaggi principalmente itineranti ho tanti clienti che tendenzialmente si fermano una notte soltanto in un campeggio allora lì per forza di cose diciamo che la routine è un pochino diversa perché ci si alzano tutti insieme si va a dormire tutti insieme mentre invece chi preferisce una tipologia di vacanza un pochino più stanziale magari stando qualche giorno in più in quel caso vi consiglierei di puntare su un motorhome o su un mansardato e mansardato comunque anche particolarmente tanti mobili quindi è un mezzo proprio più studiato per le quattro persone sempre presenti e sempre appunto fisse spero di avervi detto tutto in ogni caso vi lascio tutti gli dettagli nell'info box vi invito a guardare sul nostro sito www.caravanlang.it per ulteriori informazioni ci vediamo appena riusciamo ad aprire perché quando questa maledetto coronavirus ci lascerà in pace non vediamo l'ora di poter aprire e tornare alla normalità in ogni caso sul nostro sito trovate tutti i nostri veicoli vi lascio il contatto di whatsapp dove risponderemo a tutte le vostre esigenze ci vediamo al prossimo video ecco seguiteci anche su instagram su facebook ci siamo un po ovunque ci vediamo al prossimo video o ci vediamo qua in sede appena riusciamo avevamo un portaperte 4 5 di aprile ma visse le ultime diciamo gli ultimi sviluppi non sappiamo nemmeno noi cioè seguiteci così vi diremo cosa ne sarà alla prossima ciao ciao